Siamo con Bea Caloro, post partita contro Alpo, gara 1, partita subito messa sui giusti binari anche dalle tue triple, da quel canestro rocambolesco alla fine del primo quarto. Sì, sapevamo che ci saremmo dovuti impegnare al massimo perché è una squadra molto buona diciamo che in difesa possiamo fare molto meglio di come abbiamo fatto dobbiamo stare più attenti sugli aggiustamenti, sulle caratteristiche in generale. Contenta della tua prestazione? Sì, molto. Finalmente mi sono un po' sbloccata dalle ultime partite che non mi entravano più triple e cose così. Ma perché le ultime partite non erano playoff, contavano il giusto. Vabbè, meno male che oggi sono entrate. Ok, grazie mille.